Questi signori hanno avuto gli attributi per dire fermi tutti non venite, gli altri se ne fregano, fanno venire e poi ci rompono la barcaccia a piazza di Spagna. Ieri erano fuori come cani sciolti appresso alle forze dell'ordine e diciamo con la scusa di fronteggiarsi con i tedeschi. Ora, io ieri ho visto uno stadio inglese. Guardate un po' che cosa succede nel mondo della NBA, lo siete domandato? Guardate un po' se succedono questi problemi. Io ho visto stati, stati, palazzetti da 60.000 posti pieni, perfetti, con un tifo incredibile, ma corretto. Perché la signora Ursula von der Leyen non si mette in testa di prendere in mano sta situazione? Ci sono centinaia di milioni di tifosi in Europa che sono centinaia di milioni di elettori possibili. Che dobbiamo fondare un partito politico del calcio a livello europeo? Grazie a tutti. Grazie a tutti.